Il mio nome è Monica Raspi e sono la proprietaria dell'azienda agricola Pomona di Castellina e Chianti. Il vino, secondo me, ogni vino è unico, soprattutto se parliamo di aziende piccole come la mia. Io ho solamente 6 ettari, sono in biologico e quindi tutti i vini ogni anno abbiamo un vino unico che dipende dall'ambiente, dal territorio, dal terreno, dalla vita che c'è lì dentro, da cosa trovano le radici e ogni anno è una nuova scoperta. Quando ho una mia bottiglia in mano ho una soddisfazione immensa perché la bellezza di questo lavoro è che oltre a vivere all'aria aperta e fare un lavoro sano e bellissimo, produciamo gioia e piacere nelle persone che vanno a assaggiare il nostro vino. È una fortuna unica questa ed è un'immensa soddisfazione. Dal futuro mi aspetto un sacco di cose perché finalmente in azienda c'è qualcuno che capisce qualcosa di vino, che è mio figlio che ha studiato agraria, comincia a supportarmi in azienda insieme alla sua ragazza, quindi si vede un futuro.